A febbraio del 2019, in occasione della giornata di raccolta del farmaco nelle 76 farmacie di Palermo e provincia aderenti all'iniziativa benefica organizzata annualmente dalla Fondazione Banco Farmaceutico, i cittadini hanno donato 7.000 confezioni di farmaci senza obbligo di prescrizione medica, che pur essendo costosi e necessari a curare patologie legate alla stagionalità, non sono dispensati dal Servizio Sanitario Nazionale. Ma il lodevole sforzo non è stato sufficiente. Il fabbisogno per curare le decine di migliaia di persone che non hanno soldi, neppure per pagare il ticket espresso dalle 24 associazioni di assistenza che se ne fanno carico, era di ben 21.000 confezioni, e cioè il triplo. E quest'anno le richieste delle associazioni che si sono rivolte al Banco Farmaceutico per affrontare le emergenze del periodo sono già aumentate a 24.000 confezioni. Per queste ragioni Federfarma Palermo lancia un appello ai cittadini del capoluogo e della provincia, affinché aderiscano in massa alla giornata di raccolta del farmaco 2020, la ventesima, recandosi presso una delle oltre 90 farmacie che finora si sono iscritte all'iniziativa. I volontari delle associazioni organizzate dal Banco Farmaceutico saranno presenti nelle farmacie sabato, 8 febbraio e lunedì 10, per indirizzare benefattori verso i prodotti per i quali non serve la prescrizione medica, che sono effettivamente necessarie alla collettività. Ma diverse farmacie autonomamente anticiperanno l'inizio della raccolta sin da lunedì 4 febbraio, proprio per dare una più efficace risposta a quella che ormai è diventata una vera e propria emergenza, spiega Roberto Tobbia, presidente di Federfarma Palermo. I titolari delle farmacie di Palermo e provincia aggiunge che già si impegnano con un contributo economico e con donazioni di prodotti a sostenere direttamente il Banco Farmaceutico. Ogni giorno accolgono sempre più pazienti. Si rifiuta di dare un contributo personale alla risoluzione di tanti problemi, ma questi gesti, seppur apprezzabili, sono purtroppo una goccia in un mare di... Appartengono a famiglie fino a ieri normali, ma oggi precipitate in povertà. Si vergognano a chiedere e restano fuori dai circuiti assistenziali, rischiando di aggravarsi. Solo una gigantesca gara di solidarietà potrà raggiungere tutti, regalando un aiuto concreto ai meno fortunati.